Ciao a tutti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come fixare il problema di Deezer download per prima cosa andiamo su google pro apriamo Deezer che sta caricando ok una volta Fatto il login che io ho già fatto andiamo a inserire davanti a http la seguente striscia view barra search due puntini Ok adesso ci darà il codice della pagina noi andiamo intorno al numerino 104 vedete che qua troviamo i numerini Andiamo a scorrere poi cambia da telefono a telefono ma in teoria siamo vicini alla 104 Allora eccoci qui vedete intorno a 103 104 e copiamo questo session id Allora una volta copiato andiamo nella nostra applicazione Deezer download ok impostazioni avanzate Sessioni in D e andiamo a copiarlo Ok Cerchiamo una canzone a caso Ed ecco qua che abbiamo risolto il nostro problema Se questo video ti è stato utile iscriviti al mio canale e lascia un like